Bentornati su Mario Party 8. Oggi continueremo l'Arena Gara Stellare. E poi ho scoperto che a quanto pare per impiccire lo schermo, ecco, per far cercare di vedere tutta TV bisogna far andare più avanti il telefono. Per invece, invece, se non vuoi far vedere così niente devi allontanarlo. Ok, Arena Gara Stellare, arrivo. Continua. Ah, questo cielo si può continuare. Ah, hai vinto. Devi si è vinto, evviva. Ah, no, questa è la prossima volta. L'altra volta. Devi si contro il Luigi, è cambiato. Ah, no, no. L'isola del forzino di Gumba. Sì, alla fine non ci sto che salterò perché sarà anche vero che il tabellone l'ho già visto, ma è anche vero che potrebbe essere cambiato, ma non voglio allungare troppo il video. Il viottolo alle mie spalle porta dritto lì sul forziere. Aggiunzatele al più freddo possibile. Vedi quel puntino all'orizzonte? E' il Capitan Gumba, chi lo aggiunge dopo aver raccolto 50 gettoni, vince. Ma se lo aggiungete senza aver raccolto 50 gettoni, vi spediamo la partenza. Devo prendere 50 gettoni? In anteprò io avete il Capitan Gumba per primi. Non basta. Dovete arrivarci con 50 gettoni. Vittiamo anche i piedi anzi. 50 gettoni, santo cielo. Non so se riuscirò a prenderne così tanti. Specialmente perché non dovrei mai spendere niente. Cioè non dovrei mai comprarmi niente per ottenere i soldi. Dov'è? La stella è lontana. Lontanissima è in fondo al giottolo. Ah, darò una stella a chi c'è a raggiungermi. Ma c'è un prezzo da pagare, 50 gettoni. Chi si pensa qui senza i 50 gettoni dovrà affrontare conseguenze molto serie. Che la seconda gara è inizio. Inizio gara 2. Ah, è per dirvi, domani che è venerdì, anche in quel giorno sarò impegnato, quindi non farò video. Mi gioco sfida. Mi gioco bello. No, vuole avere un gioco preferito. Barili al laso. Ruotea, lancia, tira il barile. Che ho capito, bisogna cercare di prendere più barili possibili. Così più barili prendi, più punti fai. O devi soltanto cercare di prendere più barili con più punti. Entrambi abbiamo preso 10 guanti. Ehi, c'è Luigi che sta ruotando. 5 gettoni. Stiamo in parità con tutti i toni. Mh. Tu vedi che ci vorrà un po' per prendere così tanti gettoni? preferisco usare ancora la caramella mola finchè avrò 50 settoni che fortuna ah non posso neanche andare e comprare una caramella non posso neanche andare non posso neanche andare non posso neanche andare oh mi gioco prima per Luigi l'unico ancora che non è stato fatto è quello in cui c'è il della frutta si questo frutta di stagione frutta di stagione si è un gioco di memoria è un gioco di stagione ma non c'è ah è solo la rosa ora siamo alla quale più gettoni almeno che Luigi non prende altri gettoni perché non mi sto zitto ce l'ha fatta complimenti Luigi e in un secondo andiamoci piano dove sono i 5 frutta di stagione non ci non vince niente però puoi colpire questo blocco ora levati i piedi e tenendo la portenza ma in maniera quella luce come tenendo un po' in portone il capitano noi le metri le so come parla che non è ah non mi scadagge velocemente le so come parla Grazie a tutti.